Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Tappeti. Tappeti hanno dati a mano. Il Gabbe è a cento acuto, un tappeto molto resistente per quello molto adatto per il soggiorno e la stanza da pranzo. Benvenuti nel mondo fantastico dei Gabbe rusticali. Tutti i tappeti fatti a mano possono avere tolleranze dimensionali tra il 2 e il 3. Pezzo unico di artigianato. Materiale. Cento lana. Tipo di elaborazione, hanno dato a mano. Nodi per metro quadrato. Centomila. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.